Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Enrico Raspadori, che mi chiede di parlare del film del 2003 di Pupi Avati, Il cuore altrove. Il cuore altrove è anche un ottimo successo commerciale, non avesse incontrata a fare Angela, la ragaccia cieca di cui si innamorerà Nello Balocchi, interpretato da Neri Marco Re. Questa storia è ambientata negli anni venti, appunto questo Nello è un uomo sui proi 30 anni, che lavora in questa sartoria, che ha fatto abiti per tutti i papi del mondo, lavora lì con l'ozio omosessuale e tutto il resto, non riesce a trovare una donna, il padre gli trova un lavoro come insegnante e lo spedisce a Bologna a lavorare. E mentre praticamente è insieme a un compagno di stanza, così lo conosce, lo porta praticamente a frequentare una ragazza di un istituto che è cieca, che va in essere incostrata. Dal quadro lui si innamora perdutamente, mentre lei sembrerebbe più che innamorarsi, perdersi tra i discorsi del nostro che non può vedere e tutto il resto, fino a lei che cerca di andarsi appunto a operare in Svizzera, a lui che scoprirà altro, fino al finale, insomma, con la citazione Luce della Città che si poteva benissimo tenere Pupiavati, perché questo film è una mediocrata, mi dispiace doverlo dire, perché se al di là del livello tecnico, come al solito, Avati sa benissimo dove è una macchina da prese, sa benissimo la fotografia utilizzata benissimo, così come è buono il montaggio, la ricostruzione d'epoca, tutto funziona, ma non funziona la sceneggiatura dello stesso Pupiavati, che sembra aver perso il tocco di malinconia, sembra aver lasciato da parte questa idea appunto della sua centralità di cinema, fatta di emozioni varie, che qui invece sembrano sempre essere rilegate, in un certo senso, a questa voglia del nostro quasi di essere un pretino, che vuole fare sesso, e quest'altra che venisse incontrata, che con tutto il cuore del mondo è incapace, non sa fare la cena nemmeno per un secondo, è proprio incompetente. Non è niente di credibile in tutto questo, Neri Marcorè non ha la faccia da anni venti, secondo me non è un attore giusto per quel periodo, utilizzato in questa maniera proprio per niente, ma il film non è malfatto, perché poi comunque la conoscenza di Rizzortolani non è da buttare, Giancarlo Giannini, Nino D'Angelo fanno simpatia nel loro caverno, nelle loro piccole parti, Sandra Milo però poi alla fin fine Arzucco, il film ha poco da raccontare, sembra che delle commedie migliori che ha raccontato il nostro Pupiavati qui siano semplicemente rivoltate, per essere semplicemente raccontate da uno che sembra faccia cinema da Pupiavati, ma non sembra Pupiavati, se non fosse proprio per le inquadrature, ripeto, è il gusto che il nostro ha chiaramente nel racconto visivo, però quello che stupisce è la sceneggiatura completamente sbagliata, ma negli anni 2000 hanno sbagliato in una marea di Pupiavati, e questo è uno di quei classici film molto soggettivi, perché oggettivamente non è malfatto, bisogna vedere se uno è preso o meno da questa storia, la prima è una storia è del cazzo, non mi ha proprio preso per niente, ripeto, poi Neri Marcorè non ha la faccia che fa affezione a questa, è troppo antipatica, veramente il personaggio non è scritto bene, e inoltre è recitato col culo, e quando si capisce che lei non è cieca, si capisce che sta recitando, è chiaro, l'incontrata è stata presa esclusivamente perché era famosa per la televisione, perché non è un'attrice e non lo è mai stata, e purtroppo abbassa di parecchio il livello del film, che comunque è ripeto una sceneggiatura modesta, perché alcuni picchi sono più alti, perché Pupiavati sa quello che scrive, ma a volte, evidentemente, anche se sa quello che scrive, quello che scrive non gli è venuto troppo bene, perché cosa vi posso dire, per me è un film totalmente a tratti inadeguato per il periodo, è proprio un film che sembra nato morto, lento, moscio, noioso, che non importa a nessuna parte, con un finale telefonato, e ripeto, è anche oltretutto un po' ruffianello, quindi per me è questo il cuore altrove, ennesimo film degli anni venti, molto meglio il papà di Giovanna, con il papà mi ha dato nello stesso periodo, e altri 6.000 film di Pupiavati, questo secondo me è un film di successo di Pupiavati, ma che insomma lo va vicino più al cinema all'amuccino, che il cinema all'avati, secondo me, quindi per me è assolutamente un film fallito, nonostante, ripeto, oggettivamente non sia brutto a priori, ma per me non mi arriva niente, non mi arriva la storia di questo ometto ben pensante, non mi arriva la storia di questa ragazzietta cieca antipatica come la morte, non mi arriva nemmeno il contesto, quindi alla fin fine, insomma, il film per me è veramente una palla mortale, questo però resterà a voi per ultimo da giudicare se lo guardate, io il link comunque lo metto qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, fate tutto quello che fa contento e frusciante, donando qui sotto lo sul puntante del super grazie, seguendomi su Facebook e su Instagram per capire che cazzo faccio a giro per l'Italia, e insomma, se poi avete tutto riprovato il suo stile di garba, dategli un'occhiata, questo è il cuore altrove, che comunque mezzo mondo ha visto, ma che fortunatamente si è anche dimenticato e capisco bene il perché.